Ha un contratto di tre anni con il Lugano di Preziosi in Svizzera e la Serie A italiana nel cassetto, ma il quasi ventenne Bebeton di Aie si sente ancora legato a Teramo e ai Teramani, che l'hanno accolto nella casa famiglia col sogno di diventare calciatore in Italia. Ed allora, oggi, pur vivendo una realtà calcistica diversa, che l'ha portato a realizzare una doppietta all'Inter in una amichevole di ottobre, il giocatore senegalese ha voluto fare chiarezza sulla vicenda che lo ha interessato, tra Teramo e Giulianova nel 2009, perché a Teramo torna spesso, qui ha persone amiche e care, e qui spesso sente ancora voci che riportano alla sua fuga a Giulianova. La nega Bebeto, pensava di poter giocare col Teramo quando firmò un documento per il tesseramento, non conoscendo bene la lingua italiana, ed invece ha poi scoperto di essere un calciatore del Giulianova, quando anche l'Albinoleffe si era interessato a lui e al suo tesseramento. Chiarire sì, ma rancore il ragazzo non lo prova verso nessuno. Ci hai detto che hai firmato un documento e non eri cosciente di quello che lì era scritto e ti sei ritrovato da un giorno all'altro come tesserato del Giulianova. Questo è vero, io ho voluto fare questo chiarimento perché Teramo mi ha dato tutto a me. Io devo ringraziare tutte le persone che mi stanno vicino, che sia Tonino, che sia chi si sia, pure il Campitelli lo devo ringraziare perché lui mi ha dato la possibilità di essere giocatore, perché lui mi ha preso come un figlio e mi ha sempre trattato bene. Io ero un ragazzino, non sapevo le cose, come andavo, non parlavo bene l'italiano, avevo problemi per capire le cose. Allora, dopo che questi sono successi, tutti mi hanno dato la colpa a me, mi hanno buttato tutto. Io non ho mai detto niente, io mi sono abbassato e ho cercato di lavorare. L'ultimo invece, sulla tua parentesi, Giuliesse, sul tuo rapporto col presidente D'Agostino. Oh, D'Agostino, il presidente D'Agostino, dai, è una brava persona, mi ha pure aiutato a diventare giocatore, ma verso la fine non andavamo d'accordo perché io sono una persona che io voglio le cose precise, o mi dici le cose precise o le lascio perdere, perché a me non voglio più che mi prendano in giro.